Questo lo metto qui, questo lo metto qui. Oh, salve, prego, prego, si accomodi. Sono a sua disposizione se ha bisogno di qualcosa. Come? Sì, 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 mi dica. Posso darle del tu, visto che sì, infatti sei così giovane. Dimmi tutto di cosa hai bisogno, come posso aiutarti. Ha un profumo, benissimo, sei nel posto giusto. E dimmi, questo profumo è per te? Un regalo, un regalo. Un regalo, donna uomo, una ragazza, età 18, giovanissima. Ascolta, conosci già i suoi gusti, le sue preferenze in ambito di profumi o vuoi che ti indirizzi io? Non ne hai idea. Ok, una tipa elegante, casual. Casual, insomma, come una ragazza di 18 anni, giustamente. Va bene, dai. Allora, voglio farti annusare qualche nuova proposta che mi è arrivata in negozio da pochi giorni. Poi mi dirai tu se può andar bene. Va bene. Dunque, inizierei da Melagrana del Bosforo. Questo profumo qui. Melagrana del Bosforo. Conosci Elan? È una casa cosmetica italiana, sì, genovese. Che produce articoli di cosmetica e profumi con ingredienti su base naturale. Sì, 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 sì. Questo è un profumo a cui personalmente sono molto affezionata perché mi riporta a odori dell'infanzia. Non so perché. Di conseguenza lo propongo sempre molto volentieri alle mie clienti. È una confezione da 50 ml. Vedi, la boccettina è molto 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 carina, semplice, semplice. Che dire di questo profumo? Diciamo che è un profumo speziato, ma anche fruttato e con delle note di muschio e legnose. Ovviamente il risultato è una fragranza che lascia una bella scia seducente ma fresca, direi. Ha una buona persistenza. D'altra parte, come puoi leggere, è un note parfum. Quindi adesso te lo farò anche annusare, naturalmente. Questo profumo ha come note di testa la rosa, il pompelmo e il melocrano, ovviamente. Poi ha un cuore fruttato con pompelmo, ma anche incenso e zenzero. E poi si chiude appunto con le note del muschio e dei legni, lasciando questa scia molto fresca, un po' balsamica. Oserei dire. Adesso te lo faccio sentire prima così. Cioè si sente molto bene perché ha un bel carattere questo profumino qua. Poi se vuoi te lo posso spruzzare anche sul polso. Sì sì, avvicinati pure. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. E dimmi un po' cosa ne pensi. Ti piace? Sì. Guarda, sono sensazioni che questo profumo evoca anche a me. Mi ricorda dei profumi del passato. Eppure è tremendamente attuale. Io lo consiglio a una ragazza giovane e nonno. E sia per la stagione fredda che per quella calda, veramente. È un profumo da quattro stagioni. Anzi, se per questo io lo rispolverò proprio con l'arrivo della primavera. Perché ce l'ho anch'io. Dunque questo ha un prezzo di 24 euro per 50 ml. Come budget ci siamo? Entro i 30? Perfetto allora. Ti piace ma puoi sentire altro? Assolutamente sono qui per questo. Senti un profumo così? Che piace un po' a tutti. Non so se questa ragazza possa apprezzare profumi molto dolci. Ho questo profumino delle Petit Plaisir alla vaniglia e al Monoi. Questo è uno de toilette. Ed in effetti ha una persistenza molto più leggera nel tempo. Si va rimesso più e più volte durante il giorno. Perché svanisce dopo un paio d'ore. Però dalla sua ha un odore celestiale del Monoi. Con una nota molto presente anche di vaniglia. Che lo addolcisce ancora di più. Io questo profumo lo faccio sentire sempre quando siamo a ridosso dell'estate. Perché il Monoi ci getta subito, ci catapulta subito su una spiaggia assolata. E si è molto buono. Se mi dai l'altro polso. Sì. Lo trovi troppo dolce? Deve piacere. Deve piacere perché potrebbe risultare stucchevole. Però... Ok, non pensi possa piacere a questa ragazza. Va bene. Andiamo con qualcos'altro. Allora, fammi pensare. Sì, forse questo. Sì, per una ragazza di 18 anni. Sì, questo. Questo è Indie. È un profumo che, insomma, è uscito in collaborazione con questa star molto famosa che è Katie Perry. Sì, la boccettina è veramente molto carina. E' un 30 ml. Abbiamo solo una versione da 30 ml. Ho finito quella da 100. Allora. Anche questo è un profumino sia floreale che legnoso e muschiato. Mentre le note di apertura sono il tè bianco e il cedro, abbiamo poi un cuore decisamente floreale con il mughetto che risalta e si chiude con l'ambra, la fava tonca e il muschio. E' un profumo che generalmente piace molto alle ragazze. Lo devi sentire. Lo vogliamo provare sul lavabbraccio? Che dici? Sì. Sì, ok. Beh, sì, ti deve piacere. Non è proprio nelle mie note, però è un profumo non impegnativo che ha una buona persistenza. Ma questo viene 15,50 euro. Sì, poco. E poi, appunto, non lo so, piace molto anche per il suo packaging accattivante. Anche se il pack non dovrebbe contare molto, ma le ragazze lo amano molto. Lo consideriamo? Certo. Stai andando in confusione? Allora, dai, ti faccio sentire solo un altro profumo che forse è tra tutti quello che raccomando di più. E poi mi dirai se vogliamo fermarci o andare avanti. Questo di Nature's. Nature's, un brand che produce prodotti senza parapeni, paraffina, oli minerali, OGM, Sles, Tè e altro. È un prodotto davvero di qualità. E questo è un muschio d'acqua. È uno de toilette, ma ti dico che ha una buona permanenza sul corpo. Allora, anzitutto, questa è la confezione. Il pack è una boccettina molto semplice, che richiama proprio la natura. Sì. Sono 50 ml, fammi controllare. Sono 50 ml. Allora, questo profumo mi piace perché è fresco, ma anche caldo e avvolgente allo stesso tempo. Muschio d'acqua. Il muschio è la nota predominante all'interno di questa fragranza. Sono raccruppati diversi tipi di muschio, dal muschio bianco, al muschio islandese, al muschio egiziano, che differiscono tutti per delle proprietà intrinseche molto particolari, diverse le une dalle altre. E sì, questo profumo è molto bello proprio perché ha un cuore fiorito, ma poi termina con questa nota freschissima di muschio. Siccome vedi ti sto proponendo delle fragranze in cui il muschio è sempre presente perché penso che data la stagione calda in arrivo e l'età della ragazza andare su fragranze molto dolci, sensuali. E poi mi dice che è una ragazza molto fresca, casual, quindi ho optato per... Ho fatto bene? Beh, sono contenta. Allora, senti un po' questo. Io lo trovo stupendo, molto dolce, ma anche leggero al tempo stesso, mi dai l'altro avambraccio. Adoro. Pensaci, pensaci un pochino. Il prezzo di questo, dunque abbiamo detto 50 ml, 22,50 euro. Sì. Ti ha conquistata. E non lo so, vuoi che ti faccia sentire altro? No, basta così. Dimmi quali sono quelli che hai gradito maggiormente. Questo. E questo. Guarda, non posso darti torto. Sono stupendi entrambi, guardate, li faccio vedere anche da vicino. Tra l'altro hai scelto due brand che hanno un occhio di riguardo per gli ingredienti, per la natura, quindi ti fa onore se comprerai uno di questi due prodotti. Questo. Bene, ottima scelta. Questo per te. Sono doppiamente felice. Allora, dimmi, hai bisogno d'altro? Qualche prodotto di cosmetica? Makeup? Corpo? Sei a posto così per oggi? Allora, sì, sì, allora, guarda, metto tutto via, prendo le confezioni, sigillate, dei profumi che ti interessano, ti faccio dei pacchettini, possiamo regarci in cassa. Sì, volevo solo chiederti come campioncino eventualmente preferisci i prodotti per il corpo, sempre profumi. Quindi, ok, pensaci un attimo. Allora, eccoci qui, io ti ho preparato tutto, questo è il tuo sacchetto, ti ho pure. Allora, mi dicevi quindi che preferisci dei campioncini di profumo? Allora, guarda, io ti darei questo qua, che è Good Girl di Carolina Herrera, che tra l'altro ha, se mai dovessi venire a provarlo, ha questo pack assurdo, con questa mega scarpa, con il taco, questa mega decoltè, bellissimo. Quindi, te lo faccio provare molto volentieri. E poi, un po' di campioncini qui, che ti metto in busta. Ho preso uno maschile, perché magari vuoi farlo provare a qualcuno, è il Gentleman di Givenchy, che è stupendo. Ti ho preso, ti ho preso la Vie Belle di Lancome, Canso World, e Hugo Boss Descent Forerro. Ok? Intanto goditi il tuo profumo melocrano del posforo, poi magari quando lo finirai, potrai optare per uno di questi. Quindi, ti metto tutto, ecco sì, nella tua busta, anche questo, non lo dimenticare. E grazie di essere stata qui da noi, torna a trovarci presto, mi raccomando. Ma figura ti è stato un piacere. A presto, ciao. A presto, ciao. A presto, ciao.